Anche qua il Vice Presidente, l'Assessore Riccardi, ha già dichiarato che si prenderà il tempo che riterrà necessario, ha istituito questo tavolo di saggi che dovrebbe affiancarlo nelle valutazioni della riforma, in quelli che potranno essere correttivi. Credo che dobbiamo aspettare anche un po' gli esiti di questo tavolo per poi parlare delle eventuali modifiche. Rispetto alle unioni territoriali, credo che la riforma sanitaria sia una riforma buona, che necessiti veramente di pochi correttivi, però ci misureremo quando avremo qualcosa di cui discuteremo.